Ciao a tutti, sono Nicole, una fisioterapista del gruppo Monti Salute+. Siamo alle terme pensine, nella palestra attrezzata con macchinari elettromedicali. Il servizio propone una visita medica di presa in carico per valutare le necessità della persona e in base a queste realizzare un percorso personalizzato ed individuale. La fisiochinesi-terapia motoria è indirizzata a tutte quelle patologie acute o croniche alle quali l'esercizio attivo ed assistito può portare grandi benefici, ad esempio lombalgie, artrosi, diabete, obesità, difficoltà circolatorie e molte altre. Il servizio è attivo presso le terme pensine, terme San Luca e le terme San Petronio. Vi aspettiamo! Trovate tutte le informazioni sul sito www.maretermalebolognese.it Ciao a tutti!